Mi piace pensare di riuscire a dare agli altri quello che io ho trovato senza che nessuno me lo insegnasse, avere degli obiettivi, avere dei sogni e trasformarli in realtà. Questa è la forza di Andrea De Vincenzi, originario di Cremona, un atleta che all'età di 17 anni, per un incidente motociclistico, ha subito l'amputazione d'urgenza alla gamba sinistra. Il suo cuore si è fermato durante l'intervento, tre tentativi di rianimazione, i primi due falliti. Al terzo tentativo il cuore riparte, si risveglia il giorno dopo, con una gamba in meno e con intatto lo spirito di credere nel domani. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Come tutti gli altri incontri mi ha lasciato tantissima emozione. Solitamente quando dico sempre, ricordo sempre ai ragazzi che io sono a parlare davanti a loro, ma loro sono in 150, oltre anche 200 ragazzi, perciò ne ricevo sempre veramente tantissima emozione e soprattutto tantissima energia. Fin da subito in lui c'è stata la voglia di raggiungere obiettivi, ritornare a studiare, di trovare sul lavoro, di fare sport e di continuare a vivere. Lo sport è stato un elemento fondamentale durante il mio incidente, perché ritengo, anche i medici lo confermano, che è stato lo sport, la mia struttura fisica, che mi ha permesso di superare quel difficilissimo momento. La pratica sportiva a livello amatoriale nel canottaggio e nel nuoto è sempre stata una costante nella sua vita, fin quando la passione per il ciclismo ha preso sopravvento. Le competizioni in Coppa Europa sono cominciate dal 2009, poi nel 2012 ha partecipato alle Parolimpiadi. Ha vinto i campionati italiani su strada, a cronometro e anche in pista nel 2010. Campione italiano di ciclismo a cronometro e su strada nel 2011, medaglia di bronzo ai campionati europei in Israele nel paratriathlon, decimo ai campionati mondiali in Nuova Zelanda, poi un argento nel 2014 in Turchia. Inoltre ha percorso la strada carrozzabile più alta del mondo, in India, dove non esiste testimonianza che sia stata percorsa da altri atleti amputati, viste le numerose difficoltà. Mentre l'anno successivo ha partecipato alla Parigi-Brest-Parigi, una gara di oltre 1200 km da affrontare in un tempo dichiarato di 80 ore, Andrea è stato il primo amputato di gamba in 120 anni di storia della manifestazione, che ha portato a termine con un tempo di 72 ore e 42 minuti. Hai conseguito tante vittorie sia nello sport che nella vita privata? Sicuramente sì, ho una moglie fantastica, le due bimbe meravigliose, il lavoro non ho mai avuto grossissimi problemi, ho sempre affrontato la vita in modo, tra virgolette, da monormo dotato, insomma non mi sono mai, ho ritenuto la disabilità un evento della mia vita dal quale ho imparato veramente tantissime cose. Valori che poi tramandi alle altre persone e soprattutto ai ragazzi che incontri nelle scuole. Le risorse non sono cose che si acquistano, che si comprono, sono cose che hanno già, sono valori risorse che hanno già dentro di sé e bisogna trovare le strategie, i modi per portarle fuori. E proprio in questi giorni Andrea incontra gli alunni delle scuole del Nolfi di Fano, grazie a degli incontri organizzati dall'avvocato Donatella Catenacci. Abbiamo organizzato questi incontri, questi eventi dove lui racconta la sua storia nella scuola, proprio per dimostrare come ognuno ha le proprie risorse, non è né una gamba, né un braccio, né un dito, non è un impedimento esterno a bloccare il successo di una vita. Quello di Andrea è un esempio di vita di chi ha lottato con tutte le forze, nonostante il cammino pieno di difficoltà e come dice lui, la vita non è finita, si è solo spostata. Grazie a tutti.